Sciorella e Silvana Virgilio e l'avvocato Mario Pavone al Museo della Pace oggi nella sezione dedicata a Mario Molinari. Un'emozione e un commento su questo artista? Un uomo dettato di una grandissima genialità, assolutamente più unica che inimitabile. Il colore tuffo nell'emozione. Certamente uno stile che lo caratterizza e molto moderno per i suoi tempi, ma che connota una personalità molto vivace e fortemente portata verso l'arte.